Ciao a tutti, sono Roberta Reggiani e sto frequentando il primo anno del corso di laurea magistrale in Basic and Applied Biomedical Sciences a Busto Orsizio. Dopo essermi laureata, ho cercato tra le varie università europee un corso che mi potesse interessare e alla fine ho scelto per questo corso di laurea magistrale. Questa scelta è stata dettata dal fatto che tra tutti era il più completo perché conteneva sia tante ore di laboratorio, sia materie varie, che per me sono veramente interessanti, il tutto in inglese, una lingua molto importante in questo campo. Ora che lo sto frequentando posso dirvi che oltre ad aver soddisfatto tutte le mie aspettative ho anche trovato dei professori competenti e davvero, davvero tanto disponibili che per noi studenti sono delle qualità molto indispensabili. Quindi come corso di laurea ve lo consiglio veramente tanto. Un in bocca al lupo a tutti, ciao!